San Tommaso in pochi minuti sembra una butada, ma in realtà è il titolo di un nuovo libro appena tradotto dall'editore Dectoris di Crotone, curato da un caro amico di Alleanza Cattolica e docente universitario, Maurizio Brunetti, e scritto da Kevin Wost, uno psicologo statunitense che è autore di molti libri divulgativi, i quali spaziano dalla psicologia cognitiva la filosofia scolastica medievale. L'impresa può sembrare frutto di una presunzione eccessiva, come si fa, viene da dire, a ridurre in poche pagine il pensiero del più grande teologo della storia della Chiesa, una persona che ha scritto nella sua breve vita molto di più di quanto un uomo di cultura riesce a leggere nel corso di tutta la sua vita. Eppure l'impresa secondo me è riuscita, il libro che peraltro non è piccolo secondo gli standard attuali perché sono quasi 300 pagine, il libro merita ed è di utile e piacevole lettura. L'opera che nell'edizione originale americana suona addirittura come un minuto, è stata portata all'attenzione dell'editore dallo psicologo milanese Stefano Parenti, cui va il merito di avere promosso, sempre per questa stessa casa editrice, la Dectoris, l'edizione italiana di vari psicologi e psicoterapeuti stranieri che propongono diagnosi e terapie conformi all'antropologia cristiana. Se andate sul sito dell'editore trovate alcuni di questi libri proposti da Stefano Parenti e fatti propri dall'editore. Secondo il curatore dell'opera di Kevin Wost, secondo Maurizio Brunetti, questo libro non è stato pensato per il mondo accademico, ma per convincere anche le anime semplici del nostro secolo che ciò che Tommaso ha scritto più di 700 anni fa potrebbe tornare utile a tutti per conoscere e amare un po' di più Dio, il nostro prossimo e noi stessi. In una delle frasi scelte a presentazione dei capitoli di cui si divide il libro c'è questa frasetta del Magistero Pontificio, Tommaso d'Aquino illuminò la Chiesa di Dio più di qualunque altro dottore e ricava maggior profitto chi studia per un anno solo sui suoi libri di chi segue per tutto il corso della sua vita gli insegnamenti degli altri. Il pensiero è di Giovanni XXII ma è stato fatto proprio anche nel XX secolo dai papi San Pio X più XI e tutti i pontifici nel corso della storia hanno accolto questa tesi del dottore Angelico, cioè il primo dei dottori della Chiesa, non l'unico certamente ma uno che ha dato tantissimo e continua a dare. Magari è stato scritto anche per chi un anno di tempo per studiare l'Aquinate proprio non ce l'ha, ma ciò nonostante pensa che gli possa essere utile ritagliarsi pochi minuti per raccogliere l'invito che Benedetto XVI rivolse dieci anni fa a tutti i fedeli. Mettiamoci dunque anche noi, disse Papa Ratzinger alla scuola di San Tommaso e del suo capolavoro, la Suma Teologia. Il libro di vostra è strettamente legato alla vita dell'autore, perché non è frutto soltanto di una riflessione intellettuale, ma è il risultato di un'autentica conversione. Infatti Kevin Vosk aveva abbandonato la fede e deve all'incontro con San Tommaso il ritorno al cattolicesimo dell'infanzia. Egli si era accostato a San Tommaso d'Aquino da psicologo della memoria per ragioni professionali, ma rimase così impressionato dalla rappresentazione incredibilmente accurata della natura dell'uomo di San Tommaso che aveva poi affrontato lo studio delle parti della Somma Teologica riguardanti la ragionevolezza della fede nell'esistenza di Dio, quella dimostrata dalle famose cinque vie di San Tommaso e infine le sue argomentazioni riguardanti Gesù Cristo, la Chiesa e la vita di grazia. Il suo libro propone così l'esposizione dei contenuti della Somma lungo questa stessa traiettonica. Che cosa possiamo sperare da questa sfida editoriale? Che qualcuno si accosti all'opera e così anche al pensiero di San Tommaso. Chi si sentisse spaventato davanti alla mole enorme, straordinaria delle principali opere del Santo, provi a cominciare a leggere queste pagine. Vi assicuro che non perderai il suo tempo. Buona settimana a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.